Massimiliano Coccozza vince al premio Ilaria Alpi 2012 il premio Iadoc Rai. Come un palloncino questo è il lavoro che andremo subito a farci raccontare. Coccozza ha una passione per gli esteri, il suo mezzo preferito, diciamo così, la televisione però lavora per diversi quotidiani e mensili italiani. Questo lavoro dove è stato girato? Questo lavoro è stato girato principalmente nella città di Bari, a Bitonto, dove c'è un hospice che è stato inaugurato da un paio d'anni e parte da Trieste. Questo lavoro nasce dal bisogno intimo di raccontare un momento particolare come quello della malattia terminale che mi è capitato in famiglia e di raccontarlo senza costruzioni mentali, senza farne una storia bella, ma di raccontare una storia vera e con tutto quello che poteva significare la composizione filmica e quindi raccontarla anche da un punto di vista, il mio in questo caso, per cui non solo raccontare il disagio, la malattia, tutto quello che succede intorno, ma la condizione psicologica di chi vive a contatto con la malattia prima, con una malattia terminale, quindi che sai già l'esito a cui porterà e infine con la stessa morte. Quindi un argomento difficile, permeato da tanta sofferenza, ma le persone che ha intervistato, come erano di fronte alla telecamera, avevano voglia di parlare, come si ponevano? Beh, diciamo che non mi sono avvalso dell'opera di nessun operatore, di nessun tecnico di nessun tipo e quindi, nonostante le mie scarse conoscenze tecniche, perché io sono regista e scrittore soprattutto e giornalista, ma non operatore, tanto meno fonico, però diciamo dovendo accedere in luoghi come sale chemioterapiche, come hospice, ospedali e dovendo parlare di questi temi, ho preferito un approccio a tu per tu, insomma proprio di quello che si chiamava una volta il video giornalismo, che oggi comunque è diventato una forma di precariato del giornalismo molto diffusa, cioè il One Man Band, che ha discapito della qualità del materiale che realizza, permea di contenuti e di umanità, per cui la risposta specifica alla tua domanda è il mio rapporto con tutte le persone che ho intervistato è stato prima molto umano, molto addentro alla situazione e poi come figlio di una persona malata di quel male potevo permettermi di avvicinarle in un altro contesto, probabilmente non avrei potuto, con una partecipazione comune di una cosa grave come quella che può essere una malattia neoplastica.